La festa della trebbiatura a Elice è una tradizione che si rinnova nel tempo, siamo con il sindaco Gianfranco De Massis, tanta gente è a corsa, vuol dire che ci tengono a questa festa? Sì, questa è la prima rievocazione della trebbiatura qui nel centro di Elice, è una tradizione che ormai si tramanda da anni. E ricordare questa tradizione ci fa ricordare la nostra infanzia, quindi una volta si trebbiava all'aia per il proprio sostentamento familiare, quindi il grano era il primo alimento di primaria necessità. Quindi oggi ricordarlo tutti quanti insieme con 300-350 presenze sicuramente è una grandissima soddisfazione. Questo grazie al comitato festa dell'Elice nel Borgo che in onore di San Rocco Sant'Antonio si è pensato anche di riprodurre questa rievocazione qui ad Elice il 17 agosto. Naturalmente abbiamo un'estate elicese molto ricca di eventi, l'estate continua anche domani sera e dopodomani con Miss Adriatico il 19 e domani sera abbiamo il teatro dialettale. Insomma è una grandissima soddisfazione, noi tutti specialmente in questo periodo di ferie e di feste, insomma invece di andare in ferie abbiamo pensato comunque di rincorrere e tramandare le nostre tradizioni.